allora buongiorno benvenuti e benvenute a questa terza sessione dei laboratori e come sapete si chiude nella mattinata di oggi anche qui lo faremo in chiuderemo in modo laico nel senso che quando abbiamo esaurito i temi che vogliamo e dobbiamo affrontare questa mattina chiudiamo i nostri lavori quindi non non c'è un vincolo diciamo a cui richiamarsi che faremo questa mattina a dunque principalmente due questioni non so se intanto buongiorno anche a chi è collegato da remoto non so se ci sarà anche caterina questa mattina alla luce di queste due giornate di lavoro che abbiamo fatto questa mattina che cosa faremo primo verifichiamo se rispetto al bando alle cose che ci siamo detti alle cose che avete sentito con riferimento alle esperienze con cui ci siamo confrontati se ci sono ancora questioni sul bando che per qualche ragione non sono ancora chiare e questo caso diciamo ci dite qual è il tema che non vi è ancora chiaro l'articolo la procedura la norma che è prevista nello statuto e che non vi è chiara e su quella base poi noi diciamo vediamo se possiamo se c'è Caterina ci faremo dire da Caterina altrimenti possiamo noi provare a dare una risposta ai quesiti posti la seconda cosa che faremo è ascoltare e poi ascoltare eh Rita Miglietta l'assessore ai lavori pubblici del comune di Lecce che come sapete da sempre ha seguito tutta questa partita di masseria tagliatelle e diciamo ha contribuito insieme con la fondazione con i sud anche diciamo alla predisposizione del del bando bando nel quale sono indicati anche gli impegni che l'amministrazione comunale eh prende rispetto al diciamo a questo luogo eh nei due giorni precedenti più volte eh da parte di qualcuno di voi è stato sollevato il problema di capire alcune cose dal comune qualcosa già Rita ce l'ha detta la 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 detta nella nei capannelli che si sono formati ha raccontato qualcosa a me che io ho riferito a voi e così via e e quindi vedremo anche questo terza ed ultima parte della mattinata come avete visto in questi due giorni abbiamo raccolto alcune parole chiave che sono emerse durante eh i laboratori Delia ha fatto eh un lavoro su queste eh parole chiave ne ha individuate quelle che più spesso si sono ripetute in questi due giorni che avevano anche eh avuto una particolare eh un particolare impatto nella discussione che 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 ha eseguita alla presentazione delle esperienze e vedremo quali di queste parole possono essere parole di guida anche nell'attività di progettazione che ci auguriamo farete per partecipare al bando dopodiché sulla scorta anche di questo alla fine vi chiederemo qual è la vostra opinione su questa esperienza che abbiamo fatto che ne pensate se è stata utile non utile eh che cosa magari vi aspettavate che non è successo che cosa invece effettivamente aspettavate del successo e poi io ho una curiosità personale non siete obbligati ovviamente a soddisfarla però piacerebbe saperlo se al termine di questo eh seminario avete maturato un orientamento circa la partecipazione o meno al bando eh per la gestione di masseria tagliatele vorrei andarmene sapendo diciamo se c'è eh se il seminario se i sei laboratori hanno anche diciamo reso possibile una maturazione in questo senso perché capisco che molti sono venuti per capire per vedere per confrontarsi con altre esperienze e verificare poi la possibilità di o meno di partecipare al bando quindi ci sono questioni che riguardano ancora il bando è tutto chiaro poi per favore se potete controllare se c'è sempre qualcuno da remoto che alza la manina e e chiede eh o fa domande è tutto chiaro quindi il bando è preciso allora possiamo passare alla seconda questione che riguarda eh gli impegni del comune allora innanzitutto come sapete eh dobbiamo farci raccontare da Rita con esattezza quali sono le aree di pertinenza della masseria perché sono diciamo girate eh varie ipotesi e invece è bene mettere qualche punto fermo da questo punto di vista eh aggiungo un elemento che anche nei capannelli eccetera è emerso la diciamo il desiderio di capire che cosa succederà alle nostre spalle eh perché mi ricordo già dai precedenti laboratori eh eh Rita Miglietta ci aveva raccontato che quella è è suolo privato che era previsto un insediamento abitativo eccetera eccetera quindi capire che succede lì con quali tempi eccetera eccetera terzo elemento che ci sembra particolarmente importante eh tempi e modalità per dotare quest'area di alcuni servizi che attualmente non ci sono per esempio un'area parcheggio che oggi non c'è quindi chi arriva qui non sa dove mettere la macchina stamattina ho fatto il giro all'incontrario e ho visto che è stata completata la pista ciclabile che a suo tempo non c'era allora questa pista ciclabile però si interrompe all'altezza della circonvallazione della vecchia circonvallazione si può immaginare che ci saranno in futuro dei collegamenti della pista ciclabile con la masseria Tagliatelle perché per esempio ho visto lei che arriva con la bicicletta non ho idea di che strada abbia fatto per raggiungerla però sarebbe diciamo eh no perché la Lecce ha un grande vantaggio di essere una città in pianura quindi la bicicletta diciamo potrebbe essere un mezzo di eh eh diciamo di spostamento molto utile e molto interessante faccio un esempio per tutti se uno qui volesse prevedere un servizio di bike sharing e quindi mettere delle biciclette per fare esplorazione nel territorio poi però se non c'è il il la pista su cui andare tra l'altro quella circonvallazione di una pericolosità pazzesca perché c'è un traffico non irrilevante questa qui insomma e quindi servizi a corredo della masseria poi i rapporti con il parco sono indicati come abbiamo sempre detto il parco non fa parte del bando eccetera eccetera però il parco è lì e allora che relazioni si possono avere che rapporti si possono avere con il parco quanto diventerà aperto fruibile e come si potrà migliorare il collegamento l'accesso dal parco verso la masseria verso il eh il ninfeo insomma ci sono una serie di domande che avete posto in diversi modi in diversi occasioni nei capannelli eccetera eccetera che giriamo a Rita e le chiederemo di aiutarci diciamo a mettere a fuoco alcuni di questi temi che abbiamo detto così eh abbiamo tutti le idee più chiare vi dico anche che d'accordo con i nostri tecnici che ringrazio per il lavoro che hanno fatto eh abbiamo come ricorderete detto sin dal primo giorno che avremmo registrato i nostri lavori dalla prossima settimana non sappiamo ancora dirvi quando eh metteremo sul sito di mecenate 90 poi vediamo anche con la fondazione con i sud che cosa ritiene opportuno fare divise per mezze giornate la registrazione di modo che chi si è perso una mezza giornata chi vuole risentire delle cose che gli hanno che gli sono stati diciamo che l'hanno colpito ma che non tiene adesso a memoria può diciamo andare sulla pagina di Facebook di mecenate 90 e diciamo risentire eh le diciamo le diverse mezze giornate che abbiamo fatto insieme quindi una al giorno metteremo eh a disposizione questo materiale che speriamo possa esservi utile quindi chi ha perso qualcosa non si preoccupi perché lo recuperiamo attraverso questa modalità allora diamo la parola a Rita e sentiamo che ci dice allora buongiorno procedo con l'ordine che Ledo mi ha assegnato e poi eh aggiungo un'altra cosa allora parliamo delle pertinenze esterne della masseria eh e dei lavori di completamento che sono a carico dell'amministrazione comunale come è evidenziato nel bando dunque non so se sia possibile da parte di Caterina eh eh mostrarci la planimetria cioè io vi invito a consultare tutti gli allegati a corredo del bando e ieri qualcuno dei nostri ospiti lo ha ricordato quanto la ricchezza di materiale documentale allegata al bando che quindi è parte integrante del bando vi aiuta a leggere eh i luoghi a interpretarli a farli propri quindi non so se sia possibile se fosse possibile potrebbe essere utile la masseria perché ci sono sia le planimetrie della masseria che eh una planimetria generale dove si vede il parco e il contesto di riferimento se fosse possibile proiettarlo poi lo commentiamo insieme io intanto inizio allora alle nostre spalle quindi eh nella parte della masseria eh collegata sostanzialmente da via del ninfeo quindi lato via le grassi per intenderci la masseria ha uno spazio esterno di pertinenza che non è è è diciamo di media grandezza che arriva fino al punto in cui voi vedete una siepe che eh diciamo eh è molto leggibile orizzontale quella è l'area di pertinenza della masseria ed è l'area di proprietà dell'amministrazione comunale oltre c'è ehm ci sono delle aree di proprietà privata nelle quali andrà a sorgere un quartiere residenziale che naturalmente si affaccerà verso la masseria con una nuova con un nuovo asseviario quindi non direttamente e con delle aree a verde pubblico a servizio del quartiere quindi ci sarà sempre una certa ehm flessibilità di aree pubbliche perché quando si realizza un quartiere si cedono all'amministrazione strade e spazi a verde pubblico stiamo ehm provando a comprendere se questo quartiere può ehm localizzare i parcheggi proprio a ridosso di questa strada che quindi costeggerà eh e abbiamo previsto che sia una strada alberata con della mobilità dolce a ridosso di questa strada possono esserci dei parcheggi perché i quando sorgono i quartieri residenziali devono prevedere i parcheggi quindi da dalla parte di via del ninfeo l'area di pertinenza è immediatamente eh leggibile si presenta da solo perché c'è un accesso esclusivo c'è un percorso e c'è quest'area di pertinenza che è immaginata come l'area dove possono entrare le persone fragili che hanno disabilità motorie il carico e scarico per ogni necessità legata alle attività della masseria è chiaro che non è un parcheggio cioè è un è un parcheggio riservato diciamo così per necessità specifiche dalla parte eh entriamo adesso nella corte la cosa interessante al nostro giudizio della corte è che ha un doppio accesso e che quindi è come una cerniera o come una piazza un nodo perché nella corte della masseria che è appunto una piazza uno spazio diciamo pubblico che collega queste aree eh questi spazi aperti dove siamo noi questo è quello accanto più il corpo di fabbrica eh cioè eh sì il corpo di fabbrica che andiamo davanti a questa zona filtro questa corte che ha una sua vocazione interessante perché è come un agorà io posso accedervi da via dei Ferrari dove c'è la pista ciclabile che ha citato prima Ledo che che ehm collega non solo collegherà non solo eh questa masseria ma già collega il parco di via dei Ferrari ehm che sta proprio di fronte eh l'accesso da via dei Ferrari eh di via del del della masseria Tagliatelle ehm quel questo accesso attraversa tutto il parco in quota alla quota strada quindi è però sopraelevato rispetto al parco delle cave ed entra direttamente non nel corpo di fabbrica della masseria questa è una cosa interessante ma nella sua corte analogamente posso proseguire quindi da via dei Ferrari verso via del Ninfeo cioè io posso taccare in due con la bicicletta o a piedi questa eh grande larghezza e sfociare su via del Ninfeo e dirigermi verso la ribaltamento della stazione ferroviaria o verso eh via Le Grassi che è l'anello eh che eh cinge un pezzo importante della città eh quindi questo eh ingresso eh anche questo ingresso sarà sistemato dall'amministrazione comunale privilegiando naturalmente la mobilità dolce perché sono dentro uno spazio aperto non non posso accedere con la macchina non avrebbe senso dalla parte invece del parco delle cave eh ci sono degli spazi aperti che appunto sono rappresentati nelle cartografie allegate al vando che sono di stretta pertinenza della masseria e del Ninfeo che si affaccia a quota parco delle cave quindi è ribassato e sono delle piccole aree questi sono sì se possiamo ingrandire un po' eh sulla masseria anzi lasciamo un attimo così non abbiamo una allora lasciamo così però si è scurita lì no 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 lasciamo questa però eh torniamo mettiamola in chiaro perché si è oscurata va bene allora questo è via dei Ferrari questa qui ecco benissimo se tu magari la attraversi col mouse così la fai vedere questa è via dei Ferrari questa ah come si fa così così ecco allora questa questa è la masseria che tiene eh vedete considera anche le sue aree di pertinenza questa è via dei Ferrari questo è il percorso sospeso che eh sta sul parco e consente l'accesso la via dei Ferrari a piedi o in bicicletta nella corte questa è la corte questa invece è eh via del Ninfeo e questo è l'altro ingresso quello che abbiamo fatto in questi giorni qui c'è un eh c'è un errore perché lo spazio è questo lo spazio è questo lo spazio è questo sì non so non so come mai comunque poi eventualmente correggiamo ma eh qui c'è una cosa questo questa parte qui questa parte qui è perché qui siamo giù dove c'è il Ninfeo questa parte qui è di stretta pertinenza della masseria naturalmente come avete visto se vi siete se siete scesi giù non esiste una eh delimitazione un muretto un cancello un salto di quota tra il Ninfeo e il parco delle cave ma c'è una connessione diretta intanto i luoghi si guardano cioè io stando nella masseria guardo direttamente il parco quindi c'è una relazione fisica una prossimità molto forte quindi il le potenzialità della masseria vanno colte rispetto anche a questa eh per grande permeabilità diversificata di modi di accedervi e a questa relazione diretta con spazi aperti grandi che cosa farà l'amministrazione l'amministrazione completerà la sistemazione e le infrastrutture primarie legate agli spazi di pertinenza esterna dobbiamo completare la pavimentazione di un del bordo eh più eh prossimo ai muri della masseria dove ci sono i pozzetti dobbiamo potenziare l'illuminazione dobbiamo sistemare eh quel questo percorso sospeso come anche con delle panchine quindi ci sarà possibile cedersi perché questo è un punto panoramico cioè se noi ci noi ci mettiamo avete visto si vede se salite su se oggi vogliamo fare un ultimo giro se salite su lo vedete questo è un punto panoramico molti spazi della della masseria sono dei punti panoramici cioè la masseria si trova in un contesto urbano che però ha tanta eh valenza paesaggistica ci sono tante viste no? Ah ecco sì qua qui si vede un pochino meglio scendiamo un po' di più ancora un po' ecco questa è la sistemazione del percorso che sarà qui anche questo questo è l'accesso al parco vedete che i due accessi sono collegati qui c'è tutto un percorso ma se io sono qui perché ho fatto la visita al minfeo nessuno mi impedisce di camminare qui di entrare nel parco quindi c'è una prossimità molto molto diretta quindi poi sistemeremo quest'area esterna qui questa è la strada che oggi non esiste ancora ma che è di previsione nel comparto comparto nel che è stato approvato negli anni dall'amministrazione comunale dalle amministrazioni passate e che è in via di ehm attuazione però ci vorranno ci vorrà qualche anno fino a quando diciamo sarà concluso ed è un comparto residenziale perché qui siamo in una zona prevalentemente residenziale cioè ci sono ehm edifici dove abitano famiglie questa è la vocazione prevalente anche qui questo è un comparto è un altro comparto residenziale dove sorgeranno altri edifici più mh altre piccole attrezzature questa parte qui che ha a che fare con il ribaltamento della stazione ferroviaria che consentirà il collegamento diretto tra il centro storico della città tra il centro storico della città quindi dove c'è il polo biblio museale per intenderci percorrendo il diale storico della stazione si uscirà qui e si potrà accedere direttamente alla masseria senza eh come dire circonnavigare la città perché quando il ribaltamento della stazione ferroviaria sarà concluso sarà possibile accedervi più direttamente quindi l'amministrazione deve e sono a carico dell'amministrazione il completamento di queste aree come vi dicevo prima eh il resto invece eh quello che riguarda gli edifici non l'amministrazione non 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 interverrà più sugli edifici sul corpo dei corpi di fabbrica della masseria per quanto riguarda i parcheggi eh un dato ve lo ve l'ho detto prima cioè questo comparto qui stiamo eh ragionando nell'ipotesi di localizzare in prossimità di questa strada la eh collocazione di parcheggi che possano potenziare anche eh l'accessibilità alla masseria lo stesso da questo lato e lo stesso da questo lato in maniera tale da fornire più punti più punti per la sossa dell'auto però vi devo dire una cosa l'amministrazione comunale eh sta eh estendendo molto la rete delle sue piste ciclabili tant'è che questa pista ciclabile che è stata fatta qui proseguirà verso il parco di Rudie l'area archeologica di Rudie e eh sono già stati fatti i percorsi ciclabili per esempio che vanno verso piazzale Rudie adesso si sta completando via le Gallipoli cioè c'è un sistema capillare che sta seguendo il tempo di attuazione quindi siamo in una fase transitoria che sta completando i percorsi ciclabili e quindi per esempio rispetto a quello che diceva Ledo cioè se io dalla masseria Tagliatelle voglio muovermi in bicicletta per esempio posso andare verso Rudie l'amministrazione comunale ha voluto appositamente creare un collegamento ciclopedonale con l'area archeologica di Rudie proprio per favorire una fruizione lenta dei paesaggi notevoli della città tra cui quelli archeologici qui il paesaggio notevole qual è quello della pietra quello delle cave no il parco delle cave è un'archeologia industriale voglio ricordarvi che qui c'è la foresta urbana e che come vi dicevo l'altra volta se voi passeggiate su via dei Ferrari vedrete altri paesaggi quasi estremi dove si vedono proprio i fronti di cava con i frutteti muovendovi potrete cogliere tantissimi paesaggi che ci sono solo qui e a Borgo San Nicola non ci sono in altri in altri luoghi della città quindi per quanto riguarda i lavori di sistemazione esterna adesso l'amministrazione sta per appaltarli quindi io credo che entro l'autunno noi avremo avviato i lavori sono piccoli lavori quindi li completeremo entro l'anno per quanto invece riguarda il parco delle cave l'assessore Nuzzaci mi diceva ieri che anche lì i lavori abbiamo dovuto sospenderli perché c'è stata un'interdittiva antimafia è già stata selezionata la ditta che acquisirà i lavori e sono lavori secondari perché la caffetteria che ha progettato Alvaro Sizza è praticamente completa il parco si legge in tutte le sue parti con tutti i suoi percorsi quindi si tratta di piccoli dettagli che vanno ultimati e sicuramente ci sarà poi un intervento di rafforzamento e rigenerazione del verde ehm l'ultimo punto eh anche lì i tempi io credo che saranno prendiamoci un anno cioè il più o meno il tempo nel quale voi farete la vostra candidatura poi la vostra candidatura sarà sottoposta ad una giuria poi ci sarà la sottoscrizione del contratto quindi insomma siamo allineati posto che la masseria tra l'altro i vostri progetti investiranno anche delle somme sulla masseria per potenziarla rispetto alle vostre attività progettuali che voi immaginerete quindi lo startup eh sarà graduale probabilmente perché voi stessi dovrete non so dotare la masseria di un contenitore dove mettere le sedie una volta che sono impilate perché non volete vederle così prendere risolvere il problema del guardaroba dove si mettono le jack sto dicendo veramente delle banalità ma sono dettagli che sa a voi eh approfondire ed esplorare l'altro punto ehm è legato al contesto si è parlato molto di analisi dei bisogni fondazione con il sud eh giustamente pone molto l'accento su questo tema anche l'amministrazione comunale lo ritiene decisivo e anche qui vorrei dare degli indizi che eh secondo me stanno tutti negli allegati al bando cioè il eh il report con le attività che si sono svolte nella masseria durante la gestione temporanea vi dice delle cose anche sul quartiere poi voi potrete inoltrare all'amministrazione comunale qualsiasi domanda eh informazione che volete acquisire tramite gli uffici eh ma lì ci sono degli indizi lì ci sono ci vi dicono quante persone sono andate quando c'è stata quell'iniziativa eh che cosa si è fatto durante una serata si emerge con molta chiarezza a mio giudizio il fatto che chi vive qui vicino chi è più vicino sente la mancanza di questo luogo non so se vi è capitato io quando ogni volta che sono venuta e che sono andata via ho incontrato mamme con i bambini che mi hanno chiesto possiamo entrare oppure ho incontrato delle persone che passeggiavano del quartiere ma quando apre che bello avete aperto quelle iniziative hanno eh fatto eh entrare tantissimi residenti della zona eh in questo luogo che non vedono l'ora di viverlo e non sono pochi perché eh adesso non abbiamo Google Maps se potessimo aprire voi qui vedete vedete delle aree bianche no perché ancora non sono edificate qui c'è il contesto di edilizio economico popolare densamente popolato se possiamo aprire Google Maps faccio vedere un'altra cosa via eh dei Ferrari anche lì c'è un altro c'è un altro edificio di edilizio economico popolare ma è comunque densamente abitata qual è però la peculiarità che la masseria grazie al parco e ai suoi spazi di pertinenza ai salti di quota e come sospesa fisicamente cioè ha delle eh delle disse è arrivato il sindaco buongiorno ha delle eh degli spazi aperti che gli consentono di avere una relazione duplice con con il contesto sia di prossimità che di distanza sa a voi valorizzare questa eh questa dualità e qui vedete quanti quartieri quanti edifici ci sono residenziali da questa parte qui poi c'è un altro sistema di spazi aperti cioè non non c'è una distanza non c'è una grande distanza le distanze sono veramente piccole per questo dicevo quando la masseria è stata aperta sono venuti tutti non solo la rilevanza storico monumentale e paesaggistica del luogo lo pone come una polarità a livello urbano cioè per tutta la città tant'è che le iniziative che sono state fatte da chi ha fatto quell'esperienza hanno avuto sono arrivate a tutti e questo secondo me si evince dagli allegati al bando anche dal book dell'identità visiva dove potete un po' conoscere la storia del luogo il suo rapporto la città credo di eh mi ero appuntata alle cose che mi aveva chiesto Ledo credo di aver detto quasi tutto quello che mi ha chiesto poi magari se ci sono altre domande eh specifiche tanto siamo qui sul parco è stato detto anche all'inizio il giorno della dell'apertura dei laboratori come abbiamo detto all'inizio non ci sono barriere tra gli spazi aperti della masseria e il parco sono spazi che si parlano eh come eh eh come abbiamo ribadito più volte non esiste neanche una preclusione tra le vostre proposte progettuali e il futuro del parco cioè non è evidente che le due cose devono camminare insieme quindi tenetene conto cioè tenete conto che c'è un parco apritevi anche a proposte eh soprattutto io dico ma senza avere diciamo naturalmente eh la soluzione a tutti i problemi soprattutto tenete conto di degli spazi più vicini alla masseria magari di questa parte del fatto che questo percorso che l'amministrazione sta per sistemare è un punto di accesso è un punto panoramico sul parco che una volta che arrivo qui dalla corte scendendo posso muovermi in queste aree che qui c'è eh che possiamo andare un po' più a sud vi faccio vedere il parco di via dei Ferrari eccolo questo è il parco di via dei Ferrari dove c'è questo progetto taggate urban factory queste sono tutte cave private che comunque si vedono dalla strada dove ci sono frutteti orti si vedono i fronti di cava no? E' un paesaggio stridibile e qui c'è la foretta urbana quindi è proprio come una fascia verde molto molto densa molto importante una risorsa incredibile di cui secondo me bisogna tenere conto. Ieri quando eh parlavamo Ledo mi poneva dei quesiti che aveva intercettato anche a me sono stati posti dei quesiti mi rendevo conto che gli allegati ancora cioè giustamente si è letto il bando ma non si sono ancora consultati gli allegati fatelo perché vi aiutano nella costruzione delle vostre proposte progettuali cioè guarda guardate di bene dalla prossima settimana gli uffici vi garantiranno la possibilità di fare dei sopralluoghi di rispondere a qualsiasi quesito di natura tecnica che riguarda il completamento dei lavori che deve fare l'amministrazione comunale o alcune eh specifiche tecniche delle dotazioni strumentali della masseria che pure sono allegate al bando mentre i quesiti per diciamo eh che riguardano strettamente i contenuti del bando sono come è scritto eh risponde eh Fondazione con il Sud. Io poi lascerei insomma sicuramente magari il sindaco vi darà ulteriori sollecitazioni rispetto al contesto. Grazie Rita mi pare che abbiamo tanto salutiamo il sindaco che che ci ha raggiunti e l'assessore Silvia Miglietta che diciamo ci hanno tenuto compagnia anche in questi due giorni. Mi pare che adesso tutte le questioni che abbiamo che ci siamo posti e le domande e gli interrogativi di questi giorni mi pare che abbiano trovato una risposta. Eh so che molti erano preoccupati dei tempi. Mi pare che le risposte di Rita ci abbiano aiutato anche a collocare la risoluzione di alcune questioni che attengono diciamo le gli interventi che l'amministrazione comunale farà addirittura indicati nelle somme nel bando quindi voglio dire eh non sono ragionamenti astratti eh anche sui tempi mi pare che abbiamo avuto un'indicazione molto utile questa mattina perché quando Rita ha fatto l'esempio bisogna aspettare il 13 aprile per la consegna dei progetti poi si costituisce una commissione la quale valuterà i progetti diciamo che conoscendo i tempi della fondazione con il sud ma immagino anche quelli dell'amministrazione comunale se i progetti sono di qualità e anche numerosi serviranno un mese e mezzo o due per arrivare a selezionare il progetto diciamo su quale fare fare conto dopodiché scattano tutti quegli provvedimenti che sono previsti la stipula del contratto di comodato d'uso con l'amministrazione comunale Caterina ci ha ribadito che quello è il primo passaggio una volta che si è titolari del contratto di comodato d'uso si firma il contratto con la fondazione con i sud e si avvia la fase diciamo attuativa del progetto Rita giustamente sottolineava il fatto che comunque qui bisognerà fare degli investimenti che magari riguardano per la parte massima indicata dal bando e cioè fino a 50.000 euro interventi che possono riguardare ancora la struttura e qui sarà molto importante il rapporto con gli uffici tecnici del comune vita ha fatto riferimento a impianti di illuminazione quindi bisognerà capire che cosa sarà illuminato nel progetto dell'amministrazione comunale che cosa no c'è il problema dell'accesso al ninfeo di cui abbiamo parlato anche ieri l'accesso dal parco alla masseria sono tutti interventi che se saranno necessari si dovranno fare stanno sotto quella voce specifica prevista nel bando e naturalmente dovranno essere tutte attività in diciamo interventi concertati con gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale e essere sottoposti all'approvazione della sovrintendenza competente che la sovrintendenza di lecce poi bisogna fare gli investimenti in infrastrutture di questo spazio che significa fare gli ordini riceverli collocarli eccetera eccetera quindi realisticamente bisogna immaginare che tutto questo processo tra gli interventi del comune gli investimenti che saranno fatti da parte del partenariato eccetera se tutto va nel migliore dei modi avremo diciamo saremo arrivati alla fine di questo 2022 e probabilmente si potrà cominciare ad operare agli inizi del 2023 probabilmente visto quello che ci ha detto rita a proposito di delle dei completamenti previsti per il parco e ci ha sottolineato che non si tratta di interventi importanti ma di interventi diciamo necessari ma non che non impegnano tanto tempo per essere realizzati se lavoriamo bene e si costruisce diciamo una gabbina di regia tra tutti i soggetti che sono coinvolti in qualche modo e si mettono in pararello le cose potrebbe darsi che al termine di tutti questi interventi che abbiamo previsto diciamo tutto sia pronto per essere pienamente pienamente fruito ci sono altre dubbi domande questioni che riguardano non vi mettete paura perché è arrivato il sindaco oi lo vedi appena gli ha detto di non avere paura sempre il microfono chiedevo l'assessore il futuro per un futuro sovralluogo a chi bisogna rivolgersi ho chiesto l'assessore il futuro allora nel bando sono indicati i contatti bisogna scrivere a ornella.desicot chiocciolacomune.lecce.it per programmare i sopralluoghi grazie Rita allora vogliamo farci dare una benedizione dal sindaco prima di procedere no 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 o andiamo ancora io sono venuto solo come dire a ascoltarvi osservarvi vabbè poi quando vuoi intervenire quando vuoi intervenire ce lo dici tu ok va bene allora questa parte qui che riguardavano i rapporti con l'amministrazione comunale gli impegni dell'amministrazione comunale l'abbiamo esaurita adesso come vi stavo dicendo prima abbiamo individuato alcune parole chiave che abbiamo utilizzato in questi giorni e ci piacerebbe capire se anche secondo voi sono queste le parole chiave che devono diciamo attrarre la nostra attenzione per l'attività di progettazione l'avevamo pubblico proiettazione a tutte questo è quello che abbiamo scritto nel corso delle giornate e adesso vediamo quelle che sono tornate più volte e che hanno abbiamo concentrato la nostra attenzione però anche queste ve le mandiamo se volete di modo che vi rimangano anche poi Delia le passerà perfetto questo è un'altra attenzione questo è un'altra attenzione è un'altra attenzione il momento questo è un'altra attenzione questo è un'altra attenzione questo è un'altra 아침 questo è un'altra atenzione che ci sono parse un po le parole chiave allora cominciamo dalla prima le esperienze di questi giorni ci hanno diciamo raccomandato di anche perché la loro stessa esperienza lo dimostrava ampiamente che probabilmente è utile avere un partenariato qui abbiamo scritto eterogeneo diciamo un partenariato in cui il profilo dei diversi soggetti sia chiaro definito vi ricordate anche l'ultima esperienza ieri di Nicola Mercurio il quale ha indicato nella tabella che ci ha fatto vedere chi sono chi erano chi sono i componenti del partenariato che hanno costituito e per ognuno dei soggetti era indicato il ruolo che avrebbero dovuto svolgere la quota di finanziamento assegnata per realizzare le attività che sono previste in capo a ciascuno dei membri quindi il tema del partenariato è centrale diciamo va preparato costruito e definito identificando le funzioni che ciascuno dovrà svolgere poi sempre collegato col partenariato da queste esperienze è emerso che bisognerà fare un accordo di partenariato fra tutti i soggetti all'interno del quale accorto saranno definiti i compiti le funzioni e i ruoli fermo restando le responsabilità del soggetto capofila che sono peraltro responsabilità chiare e indicate nel bando quindi c'è poco da discutere altra cosa che sta esattamente sotto è il tema della del profilo giuridico dei vari componenti il partenariato anche qui ci sono delle indicazioni chiare come sapete nel bando minimo 4 il capofila deve avere la sede legale alla in provincia di lecce deve avere un curriculum eccetera 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 poi almeno altri due enti di terzo settore mi raccomando questo aspetto non lo sottovalutate perché oggi esiste anzi oggi da ormai quasi cinque anni il codice del terzo settore guardatevi gli articoli quattro e cinque del codice del terzo settore dal quale si evince chiaramente chi sono i soggetti che fanno parte del terzo settore attenzione i soggetti e poi sono indicate le procedure attraverso le quali un'organizzazione che non sia una ps che non sia uno di bo e quindi che non abbiano già l'iscrizione all'albo regionale della propria regione di riferimento tutti gli altri per ottenere la qualifica di ente di terzo settore devono iscriversi al registro unico attraverso le procedure anche qui indicate nel codice del terzo settore quindi attenzione quando costruite il partenariato e accertatevi ex ante il profilo giuridico dei partner che vi siete scelti altrimenti non c'è coerenza con quanto prevede il bando che a sua volta è coerente con il codice del terzo settore non poteva che essere così c'è stato a un certo punto il problema che è sorto e devo dire sia nell'esperienza di taranto che in quella di bitonto ma ancora anche nei giorni scorsi palermo caserta eccetera che riguarda il tema della commercializzazione cioè gli enti di terzo settore si dividono come sapete in due profili gli enti terzo settore commerciali e gli enti terzo settore non commerciali le cooperative sociali mi arriva di capire che c'era pure qualcuno che era cooperativa sociale come sapete si dividono in cooperativa sociale di tipo a e di tipo b le attività di diciamo commercializzazione vendita di beni e servizi parentesi gestione di un bar gestione di un ristorante eccetera eccetera mentre sono possibili per le cooperative di categoria b non lo sono per le cooperative sociali di categoria a perché diciamo svolgono funzioni diverse quindi rispondono ad una disciplina dal punto di vista anche fiscale diversa l'una dall'altra quindi quando vi ponete il problema di costruire la compagine il partenariato avendo previsto nel progetto che ci saranno delle attività orientate al mercato chiamiamole così attività profit ancorché funzionali all'equilibrio del conto economico del partenariato bisogna assicurarsi oltre che abbiano la competenza per esercitare quella funzione anche il profilo giuridico per poterlo esercitare poi altro tema recupero mazza degli allocation gli è piaciuto mettere un tocco di recupero location vandalizzazione abbandono questo è diciamo è un come dire una risorsa che diciamo è stata trasformata questa minaccia in una risorsa attraverso le esperienze che abbiamo conosciuto perché perché questi beni che sono stati poi restaurati e riconsegnati alla pubblica fruizione ancorché gestiti da enti e soggetti no profit tutti quelli che abbiamo incrociato sono progetti finanziati con bandi della fondazione con il sud hanno come dire istituito alla città beni parzialmente utilizzati o abbandonati e come abbiamo sottolineato questo modello che lega l'intervento di restauro e conservazione con le risorse per la gestione sarebbe un modello da adottare come ci ricordava lo stesso sindaco la mattina che abbiamo cominciato i laboratori dicendo appunto che questo è uno di quei casi virtuosi in cui accanto e dopo o insieme in parallelo in questo caso dopo ma in molti altri casi in parallelo si è affrontato il tema del restauro e il sostegno alla gestione e terzo quarto anzi quarta parola chiave il tema della diciamo della dell'esercizio della gestione di un bene culturale vincolato qui il riferimento ci siamo appena peraltro ricordati e tener sempre conto che questi sono beni culturali vincolati quindi qualunque intervento oltre che essere condiviso con l'amministrazione comunale dovrà essere sempre approvato dalla sovrintendenza competente e poi attenzione elevata responsabilità condivisione questi sono come dire dei principi ai quali fare riferimento nella costruzione del progetto puntare molto sulla responsabilizzazione dei vari soggetti che fanno parte del partenariato e diciamo sottolineare l'esigenza che se è possibile vi ricordate sia nelle esperienze che abbiamo sentito ieri pomeriggio che in quelle dei giorni precedenti nessuno di questi partenariati è nato per caso all'ultimo momento giusto per cogliere l'occasione del del bando che era uscito il partenariato ha messo in valore relazioni rapporti collaborazioni che magari c'erano state già anche nel passato siamo alla sesta parola chiave come fare a costruire un partenariato che tenga insieme diciamo la valorizzazione delle competenze delle risorse locali con eventualmente relazioni e rapporti con soggetti esterni alla realtà qui abbiamo fatto due diciamo abbiamo classificato questo questo tema con due sottocategorie una cosa sono i partner i con i quali si costruisce la proposta progettuale ci si candida la gestione altra cosa sono le collaborazioni che possono essere adottate sia in fase di costruzione del progetto sia eventualmente in corso d'opera la cosa bella di questi seminari è che tutti quelli che abbiamo ospitato ci hanno detto noi siamo a vostra disposizione se volete suggerimenti consigli addirittura qualcuno ha detto anzi l'hanno detto tutti e quattro se volete noi possiamo essere anche partner nel caso riteneste che la nostra esperienza può convergere può essere utile può servire alla costruzione del progetto e poi alla gestione naturalmente nessuno di loro potrà essere capofila anche perché non hanno nessuno la sede legale in provincia di lecce ma possono essere partner o in alcuni casi rientrare in quel circuito delle collaborazioni di cui abbiamo detto e anche queste non sono cose che vanno fatte siamo amici facciamo una cosa informale vi ricordate la diciamo l'esperienza che ci ha detto filippo da palermo quando ha detto ogni passaggio è stato costruito immaginando un sistema di relazione fondato sul principio della reciprocità io ho fatto un accordo con te tu fai degli eventi culturali che hai progettato tu nei miei spazi e viceversa io esporto progetti culturali che faccio nei tuoi spazi quindi la collaborazione deve essere reciproca e generare come nel caso che ci ha dimostrato filippo anche economie fatturato in modo da rendere sempre più sostenibile la gestione marchio brand anche qui è stato diciamo nelle esperienze che abbiamo sentito come avete visto i soggetti promotori pensate alla cooperativa ulix all'esperienza che ci ha ieri raccontato taranto nel caso di palermo e di caserta è successo la stessa cosa sono partiti da un brand da un'esperienza già consolidata la cooperativa ulix si ci ha detto noi eravamo siamo nati negli a quello di taranto noi siamo nati nel 2009 c'è quindi hanno utilizzato anche tutta l'esperienza precedente il brand che avevano in qualche modo costruito e valorizzato a livello locale e sovra locale e l'hanno condiviso nel nuovo progetto qualità manualità competenza formazione delia qui che volevi di dicelo tu va si è sempre dato molta importanza alla formazione no mettendo in risalto quelle che poi sono le competenze di tutto il gruppo non lo so immagino per tutti i progetti che ci sono stati ieri che sono stati presentati ieri in modo particolare quello di bitonto quindi mi aveva colpito questa cosa del creare le competenze interne attraverso la formazione anche gratuita che poi va a dare sostenibilità quindi a tutta quella parte di commercializzazione quindi credo che sia un elemento fondante anche in vista del cofinanziamento che ci sarà questo giusto non ho messa così come l'hai detto è chiaro a tutti noi perché poi abbiamo sentito anche l'esperienza di bitonto e quello che ci ha detto nicola mercurio c'è il fatto che loro abbiano anche quelli di taranto hanno insistito moltissimo sulla necessità di formare le competenze interne alle compagini e di scommettere sul capitale umano che diciamo poi impegnato nella gestione del progetto visto che hanno detto abbiamo tenuto a alcuni collaboratori con il contratto a tempo indeterminato anche nei periodi di lockdown eccetera perché sono delle risorse professionalizzate da noi e che sarebbe stato un peccato perdere poi ricominciare tutto da capo quindi puntare a formare nel caso di nicola mercurio addirittura è una formazione finalizzata lo sviluppo delle attività nel caso specifico la sartoria teatrale così via dei costumi capitale umano casa stabile ecco altro elemento penso di averla diciamo di aver capito di che cosa stiamo parlando tutte le esperienze che abbiamo sentito in questi giorni l'abbiamo già sottolineato ma ce lo ricordiamo ulteriormente per memoria sono esperienze in cui non c'era uno che aveva già maturato un diciamo una capacità gestionale di un bene culturale che era chiuso abbandonato eccetera eccetera nessuno di quelli che abbiamo sentito clac era un'associazione ha cominciato con il museo memoria viva poi ha fatto crezzi plus e poi così via francesco pascal era il presidente del circolo lega ambiente aveva esperienze di mobilitazione di comunità di bambini di ragazzi di cittadini sulla sul tema dell'ambiente del paesaggio e così via l'unica l'esperienza anche di nicola mercurio e di un del presidente di una cooperativa che fa servizi sociali sostanzialmente però tutti ci hanno detto una cosa molto importante che nel momento in cui si sono collocati all'interno di questi spazi avendo partecipato al bando della fondazione vinto questa scelta che hanno fatto ha moltiplicato le loro capacità e le loro potenzialità quindi una casa come si dice è fondamentale l'esperienza che le esperienze abbiamo sentito ce l'hanno confermato che una casa ovviamente tra virgolette fondamentale per dare sviluppo anche a quelle attività che già normalmente facciamo o anzi se ne possono aggiungere delle altre che avremmo piacere di fare voluto fare ma l'assenza di un luogo che non era disposto non era a nostra disposizione ci ha impedito nel tempo di farlo la casa i luoghi sono diventati moltiplicatori di opportunità questo ce l'hanno detto tutti ed è bene tenerlo presente infine il tema della gestione giusto delia e allora l'abbiamo vi ricordate l'abbiamo ieri sera abbiamo fatto il collegamento tra le modalità con cui ha organizzato la gestione poi di questi luoghi filippo pistoia e il modo con cui ha immaginato di farlo la cooperativa olixes per il palazzo di bitonto allora il suggerimento che è venuto qual è stato quello di identificare le diverse attività intestarle ad un soggetto responsabile del partenariato e per ciascuna di queste attività fare una previsione di costi e di ricavi con il duplice risultato da una parte di responsabilizzare i soggetti che ne sono che sono stati chiamati a svolgere quelle funzioni dall'altra ricordate filippo che ci ha detto fate un progetto pensante a dieci anni non pensate i primi primo anno al secondo anno del finanziamento della fondazione con i sud pensate a un progetto a dieci anni perché il progetto deve essere sostenibile nell'arco del tempo e non solamente per la fase in cui interviene diciamo a sostegno del della start up nella la fondazione con i sud che significa questo nell'esperienza di filippo la organizzazione della gestione per funzioni per compiti per membri del partenariato mettendo in linea costi e ricavi che cosa ha consentito oltre la responsabilizzazione dei soggetti ha consentito di avere sempre un quadro chiaro di quelle attività che generano diciamo un risultato economico positivo e quelle che invece non danno questo risultato a quel punto si pone il problema di capire se è il caso di tenerle ancora in piedi perché magari sono pezzi strategici del progetto oppure modificarli sostituire vi ricordo che francesca e filippo ci ha detto noi siamo partiti con alcune idee sulle funzioni di quello spazio negli anni le abbiamo completamente cambiate ribaltate siamo partiti in un modo e negli anni ci siamo ritrovati in un altro questo significa che non ci sono vincoli e rigidità da parte della fondazione con i sud non è che uno ha detto io costruirò borse poi il mercato non funziona non tiene eccetera eccetera e continuo a fare borse per venderla a chi posso cambiare nel corso degli anni compiti funzioni persino il partenariato può cambiare ieri nicola ci diceva non possiamo escludere che nel giro di due o tre anni un'associazione chiude cambia missione eccetera eccetera quindi anche qui bisogna fare delle scelte a monte oculate ma sapendo anche che non ci siamo chiusi in una gabbia e da quella non potremo uscire perché c'è qualcuno che ce lo impedisce al contrario è assolutamente possibile che lo sviluppo di questa di queste attività a titolarità dei partenariati che avranno avuto o del partenariato che avuto in già avrà avuto in gestione la masseria tagliatelle potrà evolversi nel tempo sia dal punto di vista della compagine che compone il partenariato sia dal punto di vista delle attività e delle funzioni che si potranno svolgere queste secondo noi sono un po i temi chiave diciamo che forse dovrebbe uscire fuori anche il sognare più volte ce l'hanno ripetuto per questo prova sognare verbo solo sognare allora senza che ci fossimo messi d'accordo per la verità con nessuno di quelli che abbiamo invitato tutti ci hanno fatto alla fine questo appello dicendo questa è un'occasione per dare corpo ai sogni allora in particolare quella citazione che faceva nicola ieri sera molto bella se se il sogno rimane diciamo fatto da una persona sola rimane il tuo sogno se lo fai insieme con gli altri diventa una realtà possibile concreta quindi era diciamo questo stimolo che tutti ci hanno fatto vi ricordate anche francesco ci ha fatto un invito diciamo a ad essere anche dei sognatori nel progettare poi diciamo i sogni devono rimanere ovviamente accompagnare anche lo sviluppo di queste attività ma declinandole poi con diciamo i principi della sostenibilità economica sociale eccetera che devono ispirare questi progetti quindi se avete diciamo accumulato nel tempo dei sogni da realizzare la masseria tagliatelle può essere un'opportunità per cercare di dargli in qualche modo quella concretezza che ci mancava fino a veri e c'era un'ultima mia personale curiosità che vi ho detto all'inizio non so se vi ritrovate se avete altre se vi hanno colpito altre parole chiave sempre microfono grazie sente sì si sente io riparto proprio da quest'idea del dei sogni perché diciamo mi sembra la mi sembra un elemento chiave essenziale di questo di questo percorso e di questo luogo perché questo luogo non è un luogo qualsiasi e proprio da quello che ci hanno detto le testimonianze che abbiamo ascoltato in questi giorni questo luogo ha una specificità straordinaria e questo luogo è uno scrigno di storia e di bellezza e lo dico a favore diciamo del dell'amministrazione della fondazione e di chi dovrà gestirlo perché credo che sia importante proprio come distillato di questo di questi tre giorni e anche delle esperienze passate degli anni degli anni passati immaginarlo tenendo conto delle del genius loci e delle specificità di questo posto cioè questo non è un posto qualsiasi in un bel in un bel contesto in cui fare un bar e delle altre attività simpatiche carine per i giovani per per gli abitanti eccetera è un posto di cui queste cose vanno fatte sapendo dove le si stanno facendo e quindi valorizzando anche i pezzi di storia che ci sono che sono forse la parte meno come dire meno meno attenzionata in questi in questi giorni e in qualche modo rifacendosi scendo giù nel ninfeo scendo giù nella seconda sala quella circolare quella delle abluzioni e mi piacerebbe che questa esperienza per tutto l'investimento di risorse umane materiali eccetera ed emotivo che c'è stato in questi anni di diciamo sono decine di mesi uomo gli anni uomo che hanno lavorato su questa su questa storia continuasse quel percorso di condivisione che viene diciamo meravigliosamente immaginato da quelli che si mettono intorno a quella in quella vasca intorno a quella vasca con quelle con quell'acqua che scorre in dove scorrono le idee poi dopo naturalmente concretizzando queste cose firmando anche dei degli atti giuridici e avendo il rispetto di tutte le norme giuridiche giuridiche ma avendo molto chiaro un concetto di condivisione questo deve essere un posto esemplare e quindi ecco questo è l'appello che faccio a chiunque voglia prendersi in in gestione questo questo bene e dopodiché passo dai sogni come dire dalle stelle alle stalle e rifaccio una domanda che fu fatta 40 mesi fa all'allora assessore dei lavori pubblici e che rifaccio naturalmente al sindaco perché se quell'esperienza di di sperimentazione che fu promossa tre anni e mezzo fa fosse per assurdo sfociata allora in una gestione non ci fosse stato la pandemia cioè ci fosse stato immediatamente la disponibilità della fondazione eccetera probabilmente quelle idee si sarebbero schiantate contro un problema di isolamento questo posto e l'ha raccontato magistralmente l'assessore miglietta ottimamente collegato da una serie di reti di ciclabili pedonali diciamo indivenire questo posto è anche a pochi metri dalla stazione cioè dal un centro nevralgico di collegamento con col mondo e con tutto il territorio della provincia di lecce allora però la stazione la vediamo ma non la possiamo raggiungere tre anni e mezzo fa chiesi all'assessore dei lavori pubblici in che in che tempi sarebbe stato immaginabile un collegamento pedonale con la stazione cioè col centro di lecce con quello che c'è dall'altra parte con le pietre che venendo da questa cava sono andate a costruire santa croce perché è ovvio che questa cosa non dipende dall'amministrazione comunale perché i lavori del ribaltamento ferroviario sono in capo a trenitalia però ledo prato ci ha parlato di cabina di regia che è fondamentale per un posto come questo il suggerimento che mi senti di fare allora e che mi sento di ribadire adesso e fra le cose che il ribaltamento della stazione che prenderà ancora molti anni e quindi che scavalca i tempi immaginati di gestione di questo posto nell'immediato quantomeno quelli di startup prevede fra l'altro il sottopassaggio pedonale che va dal piazzale della stazione attuale a questo quel sottopassaggio è un dettaglio minimo per trenitalia che è ovviamente interessato alla parte binari e che può essere il primo o l'ultimo atto di un ribaltamento se il primo è fattibile fra sei mesi se l'ultimo lo vediamo fra otto anni questo per trenitalia non fa differenza per il futuro di questo posto di chi lo gestirà della del successo della finanziamento della fondazione con il sud del successo di questa amministrazione questo secondo me fa differenza allora io invitai l'allora assessore lavori pubblici a all'interno dei tavoli interistituzionali contro in italia a spendersi e lo rifaccio questo invito al sindaco a spendersi perché quel ribaltamento non quel ribaltamento ma quel il tunnel pedonale cioè che di cui manca veramente poco che consenta ai pensionati a chi va in bicicletta tunnel pedonale ciclabile ovviamente e che nel centro ai turisti che affollano il centro storico di lecce di arrivare comodamente in 200 metri a piedi alle porte di masseria tagliatelle e non dover fare il giro del mondo in 80 giorni che li portano a non venirci tutto qui grazie grazie bene questo richiamo giustamente ha fatto un po' di cronistoria me lo ricordo ancora come tema che sempre lui pose nei laboratori del fatti all'epoca all'epoca ci fu anche detto stato ricordato giustamente che quell'intervento non risiede nella disponibilità dell'amministrazione comunale però io la diciamo la raccolgo così questa considerazione nel momento in cui sarà possibile perché si sono messi in moto tutte le cose che credo che sarà forse possibile no ridacarlo con confrontarsi anche con rfi no con trenitalia e per cercare di capire diciamo se questo tema del tunnel sta appunto all'inizio a metà o alla fine di questo percorso direi che più di questo forse non si può dire perché no non credo che qualcuno possa prendere una una diciamo assumere una responsabilità o prendere una decisione in questa sede perché non ci sono gli interlocutori interessati e lo dicevo che era rimasta questa curiosità iniziale che vi ripropongo questi seminari questi laboratori che abbiamo fatto vi hanno aiutato oltre che ad avere idee più chiare speriamo che non ve l'abbiano confuse ma idee più chiare sul sul bando sul processo sulle modalità con cui si costruisce un progetto il partenariato le relazioni eccetera eccetera prima domanda sì o no potete cavare pure con poco chi vuole si può anche astenere se ha problemi diciamo di pronunciamento ma soprattutto al termine di questi seminari qualcuno ha maturato l'idea di partecipare non voglio dire che oggi qui qualcuno che si pronuncia a favore si prende un impegno formale a partecipare al bando no però ci piacerebbe sapere capire se questi laboratori hanno in qualche modo reso possibile oltre che una riflessione sulle cose che ho appena detto abbia anche fatto maturare un interesse l'orientamento diciamo a cimentarsi con questo bando e a presentare un progetto serenamente cioè ripeto poi non è che ce lo segniamo oggi e poi se non ci siete nella presentazione dei progetti succede qualche cosa non so non ci sono multe e neanche neanche punizioni fisiche eccetera eccetera niente tutto questo quindi liberamente ditecelo così noi almeno ce ne andiamo che abbiamo capito qualcosa di più prego sempre microfono sempre parlare vicino con la mascherina eccetera noi siamo qui perché la cosa ci ci piace molto quindi avevamo letto il bando abbiamo seguito anche negli ultimi forse l'ultimo anno e mezzo e che fosse appunto pronto questo bando e quindi l'interesse c'era in partenza questi giorni sono serviti noi ne abbiamo anche parlato ma anche con gli altri ovviamente ci sono serviti per precisare ancora meglio l'idea per vedere l'ampiezza della cosa per sognare ancora di più questo sono stati utili in questo senso ci hanno fatto anche mettere ben ben in evidenza quali sono le parti che non avevamo considerato grazie questo è un incoraggiamento me ne vado già un po più contento soprattutto perché ha detto una cosa bellissima ha connesso tutto questo con i sogni che noi ieri abbiamo detto carlo abbiamo ricordato il motto di modigliani che rivolta ai ragazzi diceva il vostro unico dovere è realizzare i vostri sogni ora ci sono dei ragazzi ma siamo ragazzi tutti quindi va bene per tutti l'invito di modigliani chi altro c'è una persona perfetto diamole la parola magari chiediamole se si presenta e sempre se ci mostra il suo volto sempre che voglia ovviamente posso parlare si sentiamo bene come si chiama allora buongiorno io sono silvana battista sono una volontaria di progetto itaca che è un'associazione del terzo settore che opera per il quindi per aiutare le persone affette da problematiche di salute mentale e in particolare le loro famiglie allora io ho seguito i lavori del quindi del corso e cioè quello che io mi chiedo seguendo il corso forse ho avuto ancora di più chiara la complessità del corso stesso e quindi a me sembra visto che bisogna fare anche giustamente un'indagine del quartiere del territorio un'indagine anche con il corso stesso non mi sembra che i tempi per la progettazione che poi tutto sommato non sono neanche anche di due mesi sono troppo troppo corti e poi volevo sapere una cosa a mio avviso ma è soltanto una una mia una mia idea non sarebbe meglio e farci conoscere noi che abbiamo preso parte a questa a questi incontri farci conoscere tra di noi perché vuol dire che se abbiamo partecipato che se abbiamo seguito per tre giorni e abbiamo delle delle desiderio di partecipare quindi forse una una conoscenza un coinvolgimento tra di noi potre essere potrebbe essere anche proficuo e potrebbe fare anche perdere meno tempo nella ricerca di partner adatti grazie grazie allora dunque i tempi sono ormai scanditi dal dal bando e quindi non credo che si possano almeno al momento rivedere e in ogni caso non non è richiesta un'indagine come dire molto approfondita ciascuno la può sviluppare secondo le modalità che ritiene vi ricordate anche in questi giorni ognuno ci ha raccontato come ha cercato di interpretare i bisogni del territorio e ha provato a fare una proposta progettuale che rispondesse a queste esigenze vi ricordate ce l'ha detto Francesco Filippo e così via quindi è un percorso che si può fare perché non richiede un grande dispendio di energie e di tempo soprattutto per quanto riguarda le relazioni fra diciamo coloro che hanno partecipato ai laboratori noi l'abbiamo fatti esattamente per questo abbiamo anche invitato ognuno anche a tener conto del fatto che siamo stati insieme tre giorni che ci si poteva conoscere anche meglio magari se non c'era stata prima una conoscenza diretta e poi decidere anche con le modalità più informali come ulteriormente incontrarsi vedersi approfondire eccetera tuttavia se fosse necessario se lo ritenete utile come abbiamo detto che metteremo sulla pagina di Facebook le mezze giornate che hanno caratterizzato i laboratori potremmo anche però questo ditecelo voi perché c'è un problema di privacy tutte le cose che sappiamo se volete noi possiamo pubblicare gli indirizzi mail che ciascuno ha usato per iscriversi ai laboratori tra l'altro firmando l'autorizzazione al trattamento dei dati non so forse Alberto queste cose si può fare si e no no perché noi siamo collegati in internet quindi ad un certo punto noi non abbiamo la possibilità di conoscere gli altri perché quando io mi sono iscritta il numero dei partecipanti era già chiuso infatti ne sto dicendo per quelli che sono qui presenti ovviamente questa possibilità c'era per quelli che non sono potuti venire perché purtroppo i posti erano limitati e l'ipotesi potrebbe essere quella di condividere gli indirizzi mail che ciascuno di voi ha usato per iscriversi ai laboratori quindi noi se voi non avete nulla in contrario se è consentito possiamo a me andrebbe benissimo e la ringrazio questo un attimo sempre che se no se i partecipanti autorizzano con una ulteriore mail questo utilizzo dei dati secondo me si può fare un invio via mail ai soli partecipanti con l'indirizzo degli altri cioè più che pubblicare online gli indirizzi mail che poi usare la stessa posta elettronica ok perché sembra un buon suggerimento grazie Alberto sempre vicino alla mascherina come si può dare la propria adesione al pubblicamento aspetti un momento aspetti che stiamo cercando di trovare insieme una soluzione nel momento in cui abbiamo aderito all'invito noi abbiamo firmato anche l'autorizzazione per il trattamento dei dati quindi non trovo però accetto la proposta del nostro amico così possiamo fare io penso che chi autorizza può scambiare i contatti e tutto il resto possiamo fare anche come si dice Alberto tu c'hai tutto giusto? eh perfetto che non tutti vogliono no non li pubblichiamo la soluzione è quella che dici tu cioè tu a quelli che si sono iscritti gli mandi gli indirizzi mail di tutti gli altri senza prendere pubblico sulle pagine di facebook eccetera perché giustamente c'è secondo me prima di andare via i presenti potrebbero già dare il consenso no ci l'abbiamo perché quando vi siete iscritti l'avete fatta attraverso un indirizzo mail quindi non c'è problema grazie altri eccoci un flash per rispondere alla proposta della eh della signora della mhm della associazione Itaca oltre a questo che mi sembra una una cosa ragionevole eh potrebbe essere se l'amministrazione ha voglia eh immaginare un paio di eh occasioni di domenica mattina eh due domeniche di marzo dalle nove alle undici dalle dieci alle dodici eh tenere aperta la la corte per un paio d'ore per chi ha perché ci sarà chi ha voglia di eh chiudersi a progettare nel suo studio va benissimo ci sarà chi ha voglia di cercare partenariato all'interno di questo luogo allora se l'amministrazione ha la disponibilità di per due o tre domeniche di marzo in eh per un paio d'ore dalle come dico un paio d'ore mattutine di eh consentire di ritrovarsi a chi ha voglia di ritrovarsi o di scambiare delle idee dei dei eh dei confronti eccetera con piena libertà di per chi ha voglia di andarci per chi non ha voglia di non andarci potrebbe essere un'occasione per chi non ha avuto la possibilità di essere presente in questi giorni per per tornarci su la butto lì grazie non so se questa ipotesi è aspetta aspetta ci sono i contatti online eh sia sul sito dell'amministrazione comunale che sul sito di fondazione con il sud ai quali voi potete chiedere di fare i vostri sopralluoghi per la partecipazione al bando quindi per maturare le vostre idee verificare ogni dettaglio togliervi incertezze tra l'altro l'ufficio è a disposizione proprio non solo per farvi visitare il posto ma anche proprio per rispondere a eventuali quesiti tecnici che magari emergeranno dopo domani quindi questo penso che sia la cosa migliore d'altra parte anche darsi un appuntamento poi non è detto che tutti vengano così come molti si sono iscritti a partecipare in presenza poi diciamo hanno scelto di farlo online quindi io direi che le registrazioni sono un ottimo patrimonio che consentono a tutti di ritornare sugli argomenti dopodiché questo è il momento di concentrarsi e di poi vediamo insomma Marita c'è di più anche che forse possiamo sottolineare nel momento in cui tutti avete ricevuto gli indirizzi mail di tutti ok e vi auto organizzate cioè allora uno dice dobbiamo fare un sopralluogo perché vogliamo capire meglio l'assessore ci ha detto che c'è un indirizzo mail a cui si scrive e si prende un appuntamento usate quell'appuntamento per incontrarvi cioè diventa come dire molto più agevole anche perché poi magari se si fa per due domeniche dalle nove alle undici magari ci sono persone che in quelle due domeniche non possono quindi meglio lasciare all'auto organizzazione piuttosto che diciamo a un uso più strutturato dei tempi di utilizzo o di visita ulteriore della masseria altri per Paolo per evitare di pronunciarsi se ne è andato proprio perché ha detto qua se mi incastrano se devo dire qualcosa allora come scusi ah volete fare i complimenti al redatore il merito è vostro il merito è vostro che avete avuto la pazienza e la voglia di seguire allora se non avete ulteriori cose io direi che come abbiamo cominciato cioè con il sindaco che ci è venuto a salutare ci ha augurato buon lavoro eccetera eccetera possiamo chiudere con l'intervento del sindaco se vuole ovviamente per chi è rimasto naturalmente perché non la sopporto no naturalmente sono qui perché volevo nuovamente ringraziarvi per questa presenza per questa testimonianza per questa fiducia sono certo si tradurrà in in proposte in progetti che descriveranno i vostri i vostri sogni quello che mi sembra sia emerso con nitidezza in questi giorni che io in qualche modo ho seguito da lontano e che questo 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 percorso è impegnativo cioè alza l'asticella delle rispettive responsabilità impegni vorrei essere ancora più esplicito costringe a considerare il sogno un progetto di vita perché proiettarsi sulla gestione di un bene storico così prezioso così ricco di memorie e di opportunità per un periodo decennale definisce una scelta quello che si vuol fare di se stessi insieme agli altri per il prossimo tempo non come divagazione non come occupazione temporanea non come hobby ma come scelta consapevole e in qualche modo anche appunto definitiva o provvisoriamente definitiva questo è importante è sfidante e nello stesso tempo però fortemente motivazionale perché ci impegna a una relazione anche fiduciaria fra soggetti che provengono da esperienze diverse e che vogliono condivire un progetto comune a me piace questa questa cornice nel quale si sta delineando il futuro della masseria tagliatelle che è paradigmatico delle condizioni nelle quali operano oggi le amministrazioni pubbliche nella gestione del patrimonio pubblico abbiamo alle spalle l'età dell'oro quella che poteva consentire agli enti locali di tenere aperti e chiusi i propri beni magari garantendone periodicamente manutenzioni senza alcun tipo di ulteriore preoccupazione che spesso si traduceva però in utilizzi così estemporanei beni comuni al servizio della cittadinanza ma senza progetti definiti di valorizzazione e fruizione è finito anche il tempo del mecenatismo culturale nel senso di coloro i quali caratterizzava la storia del secolo del nostro paese in cui i mecenati mettevano a disposizione i beni li finanziavano e poi gli davano valore finito anche quel tempo quindi adesso dobbiamo fare inevitabilmente i conti con l'adeguamento di politiche di gestione dei beni di governance di sistemi di articolazione pubblico e privato ed è molto bello che questo stia accadendo con un'esperienza che vede impegnata l'amministrazione di Lecce e fondazione con il sud che consideriamo un partner assolutamente decisivo per l'esperienza accumulata perché è un riferimento abbastanza ormai solido tra gli enti del terzo settore che da tempo appunto prova a seminare questa consapevolezza della sostenibilità come bene comune cioè la sostenibilità non è un ostacolo che ci deve impedire di impegnarsi a superarlo ma è la condizione che dà valore a questi a questi luoghi che sono momenti sono appropriazioni collettive nel momento in cui si garantisce la possibilità che più persone per più anni in più condizioni possano sentirlo proprio lo dicevamo l'altro giorno questo è una una condizione che sta appassionando tutti gli operatori del settore i decisori pubblici il ruolo degli ETS le fondazioni come si mette a valore un patrimonio così esteso guardate che è ricchissimo il patrimonio del nostro pubblico noi abbiamo un lascito che afferisce la memoria storico monumentale archeologica ma ci sono altre memorie post-industriali ad esempio che cominciano a essere considerate dalle amministrazioni pubbliche un problema che può innescare opportunità i luoghi abbandonati costituiscono nell'ambito dell'organizzazione urbana sociale dei vuoti che innescano processi a volte di degrado a volte di marginalità a volte anche di insicurezza urbana quindi tutta la la ricchezza di di post-proposte che può arrivare dalle esperienze di più soggetti possono essere la soluzione a questo a questo tema molti di noi sono spesso colpiti abbagliati emozionati da proposte culturali di valorizzazione di beni che arrivano dal nostro città tenete conto che molte di queste nuove esperienze oggi nascono attraverso fondazioni fondazioni private fondazioni pubblico private quasi mai fondazioni pubbliche in questa nostra realtà capito questa ricchezza di disponibilità non l'abbiamo e quindi dobbiamo essere anche più disponibili e capaci di inventarcene mettendo insieme le tessere di un mosaico che si deve andare a comporre in modo intelligente e sapiente se io facessi l'elenco oggi dei beni che abbiamo necessità di offrire a un uso pubblico attraverso coinvolgimenti pubblici diventa impegnativo e la domanda che ci facciamo naturalmente siamo nelle condizioni di poter dare gambe a questi progetti con la realtà della nostra città abbiamo necessità di organizzarci anche e proiettarci su un'area vasta in cui non c'è soltanto il protagonismo delle associazioni o degli enti del terzo settore della città ma dell'area vasta del comune capoluogo della provincia ma anche di altre testimonianze che vengono da fuori questo è importante naturalmente più siamo determinati più siamo anche capaci di innescare quel processo emotivo emozionale di sogno più saremo anche nelle condizioni di attrarre esperienze che arriveranno non so che cosa succederà qui se ci saranno partenariati che vedranno coinvolte altre esperienze come qualcuno si è già detto ha dato la propria disponibile me lo auguro veramente perché credo dalle contaminazioni di esperienze che avvengono anche in luoghi diversi si cresca si cresca tutti noi abbiamo veramente la necessità di alzare lo sguardo per guardare orizzonti che sono più lontani di quelli consueti perché ci fanno bene usciamo da quelle che si chiamano le comfort zone quindi ci spaventano però da un certo punto poi ci fanno crescere che ci danno e ci danno energia e stimoli noi naturalmente siamo molto attenti a quello che sta accadrà qui ci siamo come vi ho detto all'inizio su masseria tagliatelle abbiamo in questi anni sbattuto la testa ma non ho come dire nessuna motivo di nascondere che senza la scommessa di fondazione con il sud senza quell'incontro che ci vide me l'edo andare a trovare Carlo Borgomeo alla fondazione a Roma questa opportunità non sarebbe postata possibile cioè disporre di una dotazione di 500 mila euro per accompagnamento di attività da realizzare qui era una condizione che noi come amministrazione pubblica non avremmo potuto consentire che è stata la ragione per la quale quella prima esperienza che abbiamo fatto qui di laboratori naturalmente non è riuscita trovare le gambe per poter per poter camminare quell'esperienza però è stata una sorta di seme che è stato lanciato che ha fatto in qualche modo irrorato innanzitutto attenzione sullo spazio ha messo nelle condizioni più persone di conoscersi fra loro e di conoscere meglio ma seriata alla tele e oggi possono farne utile raccolta e metterla appunto a valore in questo appuntamento volevo naturalmente rassicurare che l'amministrazione sta lavorando in sinergia con RFI per tenere assieme le pretessere di questo progetto articolato che vede quest'area questo quadrante coinvolto in più i progetti sulle date è sempre bene non impiccarsi però tra il 2023 e il 2024 secondo alcune previsioni noi potremmo vedere chiuso il progetto di rifacimento della della di Alonso Quarta con il nuovo progetto di ingresso della stazione tra 2024 e 2025 secondo le indicazioni che ci dà RFI poter chiudere il progetto di ribaltamento della stazione e poi c'è anche il progetto di restyling della stazione stessa che RFI ha inserito tra quelle finanziabili con il PNRR quindi noi avremo il completamento del progetto di ribaltamento della stazione il completamento del progetto di recupero del giardino delle cave il nuovo ribaltamento il nuovo ingresso di viale Ronso Quarta e la nuova stazione ferroviaria tutto questo è una bellissima allineamento di opportunità che rispetto anche ad altre iniziative che nel quadrante si andranno a sviluppare saranno poi oggetto delle risposte che noi vogliamo dare anche col nuovo piano urbanistico generale che viene a terra a conto di anche queste nuove urbanità di queste nuove polarizzazioni di insediamento che definiscono anche nuove potenzialità di questo quadrante rispetto rispetto al futuro niente volevo anche io ringraziarvi per chi ha organizzato tutto l'ha reso possibile Ledo Rita e tutti voi che siete stati qui di sabato anche oltre a giovedì e venerdì e adesso mettiamoci al lavoro volevo dirvi che l'amministrazione farà da facilitatore di questa condivisione di comunicazioni troveremo il modo per consentire a tutti i colori i quali hanno dato la propria mail di autorizzare l'utilizzo della mail nell'ambito del gruppo dei partecipanti quelli che effettivamente poi hanno risposto e quelli che anche magari non hanno potuto per varie ragioni poi dare seguito le modalità di accesso al luogo per le visite vanno bene ma io faccio proprio le considerazioni di Ledo questo è il momento in cui l'auto diciamo organizzazione è fondamentale per fare i passi successivi nel senso che siete stati qui avete condiviso vi conoscete rimetteremo a disposizione le mail e adesso poi fate fate squadra fatelo voi perché è veramente la condizione per non soltanto per rispondere ai criteri del bando ma proprio per poter vivere un'esperienza che sarà di successo perché collettiva e condivisa tra più soggetti grazie veramente e alla prossima grazie Carlo allora possiamo considerare chiusi i laboratori dico a voi quello che ho detto ai miei studenti l'altro giorno alla alla Iulm se vi trovate davanti a un bivio imboccatelo imboccatelo non tornate indietro perché è un bivio imboccatelo deciderete voi quale delle due strade imboccare ma mai tornare indietro davanti a un bivio a me sembra questo l'augurio che possiamo farvi sperando che tutto vada per il verso giusto grazie ancora per essere stati con noi e buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti